Mi copro la cesta? Sì La 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 Ciao a tutti ragazzi Qua per vostra sfortuna c'è XMorri Faccio schifo Benvenuti ragazzi Con questa intro volevo dirvi che ci vediamo il 16 marzo a Bologna Al Megastore Mondadori per il firma copia del nostro libro E il 17 marzo a Milano a Piazza Nuomo Sempre per il firma copia del nostro libro Alle 16 e 30 in entrambi i casi Quindi mi raccomando non mancate quale date Bella zio frate Ciao a tutti ragazzi con il suo XMorri E dentro di questo nuovo video siamo tornati qua In un nuovo video No un tag ma in companhia Degli Illuminati Crackers Esatto Illuminati Crackers Come avrete visto da l'indolo Cazzo è? È merda No Ok Siamo qua ragazzi in una reazione ai primi video di tutta la crev La crev si E partiremo ovviamente dal mio Perché sono diciamo il capo rispettore di questo gruppo Si è scoperto in questi giorni E il secondo che sarà Ma prima Prima di Giampitech aspetta calma i tuoi Eh tu sei la tempesta ormanale dei 14 anni è allargata Prima di iniziare ragazzi noi vi ricordiamo che è uscito il nostro libro Come diventare ricchi con Youtube Quindi lo trovate in tutte le librerie e negli store Esatto Quindi andatevelo a comprare se volete scoprire dei segreti su Giampitech Che nemmeno io so È vero Raggiungiamo i 25.000 mi piace Per un altro video con gli altri Partiamo ragazzi dal mio video 5 anni fa Che piccolo di morto 39.000 visualizzazioni Ma sentiamo Ma io ma che giampiccica ma fa Ma c'è male Ma chi è? Ma chi è? Frank Matano Questa è la Frank Matano Mi piace per l'intro Sì Beh sì è un nome abbastanza gay però Già 5 anni fa Un ragazzo di Un ragazzo carino Di 16 anni Di Palermo Di Palermo Il mio secondo canale Il suo secondo canale? Si chiama Segnale Disturbato Segnale Masturbato Un veterano Pagex Murray Infatti in questo canale vedrete Sì video di videogiochi ma Ma no 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 Con cosa hai montato? Ma che cazzo Ma chi mi ha montato? Di videogiochi ma a sfondo comico Il gioco a sfondo comico Ma sempre quello che si è comprato a Si compra la playstation E poi mentre fa il video fa un pirito E dicono Questo tutto quanto è nel video Lo tengo nella diretta bene questo era il mio primo primo video ah però dobbiamo vedere anche il primo vlog mamma mia che magliette da povera ragazza e qua ancora non avevo fatto i soldi giampiti e quindi mi vestivo un po come te Gali alla fine ce l'avete fatta fatemi un applauso ve lo meritate che coglione ce ne ho comunque più montaggi in questo video che ne ho trattato facendo di youtube italia novità acquisti e ringraziamenti ancora e anche il reverso pochi cazzi c'è ragazzi cover post trascolzione che smuglia ma vedi ma rimetti il suo pezzetto è la prima intro che si capisce che dite la finisca con questa minchiata c'è ragazzi cover post trascolzione che smuglia che troppo è per sbagliare perché dici ciao a tutti i ragazzi e vabbè fammi un po' che cosdaloni è questa cosa che avevi ancora le orecchie po' una più a testa e una più a testa cascai e mediaset premium prenderi tranquillo diventerei uno dei youtuber più famosi d'Italia grazie ma ragazzi adesso basta parlare di me non voglio non voglio essere non voglio accettare l'attenzione le copertine io andrei a vedere i 20 video di jumpy deck però non quelli in compagnia quindi non il primo non il secondo che è con me ma il terzo questo dovresti essere solo non lo so che c'è di più oti carica puttana benvenuti ragazzi biiiii finalmente ho installato un altro giga di RAM sul mio PC adesso 8 giga di strutturante veramente recentemente del coppia subito sette Si quell'intro che ho fatto prima è perché Purtroppo formatato il pc Di merda un idiota del cazzo Buongiorno Io arrivo a casa accendo il mio bel pc Ritorno a casa accendo il pc ogni volta che stiamo zitti si sente la felice accendo il pc L'ho fatto dopo anni vai 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 No serio si chiama si chiama la giornata con jumpy youtube fa cagare è vecchissimo ma no Benvenuti ragazzi in questo La prima parte La prima parte Più o meno dai Che cazzo dico Ma c'hai tipo Un laccio intorno ai coglioni Si sicuramente mi avevano castrato E poi mi sono castrato Perché ti muovi Infatti resterò tutto il programma Adesso a casa non sono un cazzo Magari gestirò un po' youtube Beh Gestirò un po' youtube Ma che cazzo Vabbè direi che ci siamo accaniti abbastanza Su jumpy tech Qua siamo sul canale degli i noob Basta E sono punti per un Esatto Cinque anni fa Il primo video Tutti su cod abbiamo iniziato In questo video non c'è spoon Come no E vabbè vabbè E vabbè vabbè ma vediamo Il primo video Degli i noob Benvenuti su internet channel Il canale degli scarsi Si non so più ognuno Cos'è quella scritta La scritta Ma no Ma no Partiamo dal presupposto Che questo video Non l'ho montato io Avevo un video Perché non Perché ha montato Il mio collega dell'epoca Perché ha montato questo video E l'era montato Come puoi leggere benissimo Con ABS Video Editor Madonna Un programma che ho usato Fino al 2014 Beh no Non male Per tutti i video avevate questa cosa in mezzo Però l'avete craccato No dal secondo video Abbiamo levato la scritta Ah dai Tipo le bande nere Sono rimaste per tipo Tre mesi Sì Full screen è tutto Beh dai Una bella proporzione Tu che hai registrato in aeroporto Questo video Il microfono interno del portatile Ma fai vedere il video con Spawn Eh sì esatto Tu che sei più esperto Oh Oh Oddio Oddio Questo ormai è il famoso video Non ce n'è Oddio 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 Camera mia, era camera mio fratello perché avevamo stupendo a registrare lì non lo so perché l'unico computer che aveva una webcam era il portate di mio fratello Miche che povertà ragazzi Ma chi mi pensava usare le macchine da due carri Ma si parlava Ma si parlava al tempo delle partnership E la di Youtube Già pensavamo ai soldi 9 mesi col canale già parlavo di partner Non siamo mica come gente che si compra 8 DLC al giorno OOOOOOOOH OOOOOOOOH Sì Mamma mia che animo combattivo che amava pure Non stavo distando me in realtà Non mi ricordo niente Andiamo dal nostro amico brasileiro perché la sospira Ho paura eh ti staccavano Ma è solo due anni fa dai Due anni fa dai Ah ma già hai veloco Faceva stare copertine fatte bene Frazo è pareto imparato Ma andiamo bene ragazzi per l'appunto come vi dicevo all'inizio Un altro piccolo spoiler Il vlog è dei 500 iscritti Grazie Grazie Ciao ragazzi benvenuti in questo primo vlog Di Brazo Criu Oh ragazzi Non c'è gusto non c'è Non c'è sottare Ormai faccio tutto dal grande raccordo anulare Ormai c'è campo sul raccordo anulare per andare al lavoro Che lavoro fai Brazo sul raccordo anulare? Ringraziare tutti ma tutti 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 per i miei 520 iscritti Bravo brazo 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 In soltanto un mese e mezzo un mese e mezzo Un mese e mezzo 500 iscritti Un grande bacio un abbraccio a tutti Guarda che la mia qualità Dai tempi però baciava e abbracciava tutti Però brazo vedi non c'è gusto perchè è troppo recente Cioè non hai Guarda Rosario Muniz Non hai lati oscuri Ma Stormy forse si Ma Stormy forse si Guarda qua quanti clickbait Apri questo Apri 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 Che cazzo è questo Alla musica Guarda tutti i ragazzi sono episode Qua sono in compagnia Oh Siamo pronti qua per partire Per ritornare in Italia Caravanti Dai qua Capurisquerd Vieni qua 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 Il paraculo di merda La mette appena in descrizione Ovviamente il video è solo per Gabbo è un grande Ovviamente salutiamo Gabbo Che cazzo è? Oh Un gioco bellissimo Con il video di Black Ops 2 Grrrr Per un assiduo c'è anche giusto Grrrr Tecnico di schiena Lo farei nel 2025 Adesso gli effetti li metti a mano Ma prima li facci via bocca Esatto Ora mi trovo in Gabbo Oddio Rabbo Porca ma Ma che fremmo sto fatto? Ma che cosa Assurdo Satana Io sono Guardalo Guardalo Aspetta che fanno ridere più i video di prima Dio Gabbo Sempre in base Sempre in base Aspetta Secondo me Blur guardava i tuoi video Si no Esatto Regista adesso in mutante e bestegna Ero un mezzo king Lo beauty è un gioco fatto neanche col culo Neanche col piedi Porco d***o con le mani Guardalo Ma quanti riporti di voi di diventare campo di super Guardalo Guarda un altro campo di super No aspetta Quello di Fabi J Guarda quello di Fabi J Ti prego Aspetta a tutti ragazzi Sono Fabi J E oggi andiamo su Eddie Wills Vi invito a lasciare un mi piace Perchè questa serie Ci vena tanto mi piace Che cancellagini eravamo nel libro Aspetta Che fai? Che mignetto la droga Nel barbino No ma Ok Adesso sono pronto Play Play now Allora io non li ho tenuto i Fabi J Che affare Perchè c'è ancora la iana? Ma che cazzo ho? Chi è che ti piace per i video in questo momento? Chi è che ti piace per i video in questo momento? Chi è che ti piace per i video in questo momento? Chi è che ti piace per i video in questo momento? Il fratello Vabbè Io direi che può bastare anche per il nostro Stormy Ragazzi Avete visto come eravamo diciamo un pochettino Inrequieti A inizio A inizio carriera Stormy diciamo era proprio un fottuto Stormy era un fottuto da prima Ragazzi A 30.000 mi piace Stormy ricaricano dei suoi video Dei primi video sul suo canale A 30.000 like Spero che questo video vi sia piaciuto E noi vi ricordiamo ancora una volta che è uscito il nostro libro Trovate link in descrizione E tutte le info comunque le trovate in descrizione E nei video passatevi Andatevele a vedere Noi ci vediamo E noi ci vediamo A presto 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 Grazie a tutti.